Sono il calore e il clima di famiglia colpire Papa Francesco nell'incontro con la comunità di Nomadelfia. Questo centro, fondato nel 1947 da Don Zeno Saltini in provincia di Grosseto, viene definito dal Santo Padre una realtà profetica. Francesco sosta per un momento intenso di preghiera sulla tomba di Don Saltini nel piccolo cimitero locale. Poi l'incontro con i membri della comunità e la festa dei giovani con musiche, canti, rappresentazioni e coreografie. Nomadelfia si propone di realizzare una nuova civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella. Il Papa ricorda il fondatore, che originario delle campagne della pianura padana, sapeva preparare il terreno al seme del Vangelo affinché portasse frutti di vita nuova. La legge della fraternità che caratterizza la vostra vita è stato il sogno e l'obiettivo di tutta l'esistenza di Don Zeno, ha detto il Pontefice, che ha poi esortato i presenti a continuare questo stile di vita, confidando nella forza del Vangelo e dello Spirito Santo. Di fronte alle sofferenze dei bambini orfani o segnati dal disagio, ha sottolineato il Papa, Don Zeno comprese che l'unico linguaggio che essi comprendevano era quello dell'amore. Questo speciale vincolo di consanguinità e familiarità, ha proseguito Francesco, a Nomadelfia è manifestato anche dai rapporti reciproci tra le persone, cioè tutti si chiamano per nome, mai con il cognome e nei rapporti quotidiani usano il tu confidenziale. Ma di segni profetici e di grande umanità nella cittadella ce ne sono tanti, come l'attenzione amorevole verso gli anziani, anche quando non godono di buona salute e restano in famiglia, sostenuti dall'intera comunità. Per contraccambiare il dono della visita del Pontefice, la comunità ha consegnato alcuni regali al Papa, una pietra con impresso il nome Francesco, un album che ritrae tutti i luoghi visitati dal Papa con i disegni dei piccoli e le firme di tutti gli abitanti, un libro con le frasi più celebri del fondatore e al termine una foto di gruppo con un ultimo saluto. Grazie tante, grazie dell'accoglienza, della vostra gioia. Andate avanti!